Mi raccordi proprio della vita che facevate in parrocchia, quindi dei suoi lavori nello specifico, cucinava, mangiava... Cucinava, mangiava, faceva polizia... Aspetti un attimo, io finisco di parlare, così inizia e poi mi racconta. Mi racconti proprio la vita che faceva in parrocchia, cosa faceva da lavorare con il parroco? Lavoravo, faceva polizia, facevamo da mangiare, e i lavori avevamo un piccolo giardino da lavorare, tappavamo, mettevamo un po' di verdura per mangiare e poi quando c'era più niente da fare si riposavamo, poi continuavamo sempre... sempre un po' di lavori, tutti i giorni, avevamo tirato avanti 15 anni io sono stata. Mi sono poi... venivano i ragazzi in laboratorio e le ragazze venivano tutti in laboratorio e allora ho conosciuto quel ragazzo lì che mi sono poi sposata del 38, il 23 aprile del 38. E nel tempo libero cosa facevate? Uscivate oppure stavate a casa? Sempre a casa, non ho mai uscito e andato a nessun posto. Andavo qualche volta a fare una passeggiata. Sono andato una volta, solo che mi ricordo, a front, in bicicletta, a mangiare le ciliegie, e alla testa uscivamo mai e venivano i giovani lì, e c'erano i suori lì che venivano, facevano il cilco e le spiegavano un po', raccontavano delle fronte per passare il giorno, e poi giocavamo lì assieme, tutto il giorno. Grazie. 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 Grazie.